Ciao e benvenuto a questo video, video di presentazione di War Ventures. Probabilmente questo video ti è stato inviato da qualche amico o l'hai trovato direttamente tu online. Nei prossimi minuti cercherò di darti le informazioni principali che ritengo opportune, che riteniamo opportune per quanto riguarda appunto questo club di viaggi War Ventures. Di che cosa parliamo? Parliamo di viaggiare, di viaggiare di più di quello che viaggiamo, di viaggiare in maniera intelligente, quindi spendere meglio il nostro budget. War Ventures è un'azienda americana, esiste da dieci anni, è un club di viaggi e con un'associazione iniziale ci permette di avere accesso a una serie di viaggi preconfezionati a prezzi assolutamente incredibili e superiore rispetto a quella che ci aspettiamo, perché con War Ventures si parla di 4-5 stelle e non meno, quindi non troveremo mai DreamTrips, quindi offerte a 3 stelle o offerte a 2 stelle. La ragione del successo di questa azienda è veramente semplice, hanno deciso di utilizzare il network marketing come mezzo di distribuzione, quindi non solo si potrà essere membri, ma poi lo vediamo nell'avanzare del video, possiamo anche diventare dei rappresentanti ufficiali War Ventures e quindi distribuire l'opportunità. Il nostro prodotto, ve ne parlo velocemente, sono DreamTrips, sono viaggi preconfezionati che l'azienda acquista in grandi quantità e ci mette a disposizione senza fare, senza avere nessun tipo di ricarico, quindi senza aggiungere nient'altro al prezzo che ha pagato lei. Come fa? Tratta, ci mette a disposizione questi prezzi e noi, con il nostro back office, essendo soci, membri di questo club di viaggi, possiamo semplicemente da casa nostra entrare, digitiamo la nostra password, il nostro username, entriamo e vediamo questi viaggi che costantemente, ogni mese ci vengono messe a disposizione. Ci sono anche tutta una serie di servizi che questa azienda e Rovia ci permette di ottenere, essendo membri del club. Ve li elenco velocemente, si chiamano Price Pledge, Rates Rinker e un servizio 24 ore con Search. Il Price Pledge è un servizio incredibile che ci permette di prenotare attraverso Rovia, che è World Ventures, ricordatevelo, prenotare attraverso Rovia un viaggio qualsiasi nel mondo, quindi in qualsiasi località e nelle ore successive di andare a cercare se effettivamente trovo un prezzo inferiore. Se trovo un prezzo inferiore, benissimo, lo dimostro a Rovia, Rovia è ben lieta di darci il 150% della differenza in Rovia Box, che potremo utilizzare per le prossime vacanze. Il secondo servizio veramente unico, io ho mai sentito, io sono un viaggiatore, 13 anni che viaggio, non ho mai sentito un servizio simile, si chiama Rates Rinker. Nel momento in cui noi prenotiamo la vacanza, probabilmente non andiamo a partire domani, partiamo fra una settimana, due, un mese. Se nel frattempo, se nel periodo tra quando io ho prenotato e quando parto, l'azienda per qualsiasi motivo, offerte speciali o trova un prezzo inferiore, lo prenota per conto nostro, cancella quello precedente e ci restituisce sulla carta di credito che noi abbiamo utilizzato per pagare la differenza. Quindi se avevo pagato 1000, trovato 980, benissimo, ci ridà 20 euro sulla nostra carta di credito. E' il servizio Consure, c'è un servizio 24 ore, è un servizio che ci permette di stare tranquilli, quindi ci possono aiutare semplicemente telefonicamente con delle ridirezioni stradali, possiamo chiedere di prenotarci un ristorante, possiamo chiedere di darci una mano a cercare delle specifiche attività, possiamo chiedere di farci svegliare la mattina. E' un assistente virtuale a nostra disposizione, ovviamente se siamo membri del club. Per essere parte del club bisogna pagare una fee, una fee di ingresso, e paragonata a altri club di viaggi del mondo, diciamo che WorldVentures è assolutamente il più competitivo. Abbiamo visto club di viaggi da 2000 euro all'anno, abbiamo visto club di viaggi da 1000 euro all'anno, non è il caso di WorldVentures. Non parla di 2000, non parla di 1000, neanche di 500. Per accedere, quindi per diventare membri di WorldVentures, è sufficiente pagare 199 dollari e una fee mensile di mantenimento. Tutto ciò che noi spenderemo sia inizialmente che mensilmente non è buttato, passatemi questo termine, viene trasformato in punti che noi possiamo utilizzare nelle nostre vacanze. Quindi non solo i prezzi sono già interessanti, ma abbiamo la possibilità per ogni singolo viaggio di scartare dei punti, scontare dei punti. In più, una volta che siamo membri, ha un programma. Abbiamo detto all'inizio che è un programma di network marketing. Una delle prime cose che vengono all'occhio guardando il piano compensi WorldVentures, se si vuole fare come lavoro bisogna pagare una piccola fee d'ingresso che in questo momento è di 100 dollari, quindi se voglio essere cliente liberissimo, in aggiunta come opzione, io posso anche diventare, come ho deciso di esserlo io, un distributore WorldVentures, un rappresentante WorldVentures. E il primo bonus che ci mette a disposizione questa azienda è semplicemente parlando con quattro dei nostri amici, colleghi, parenti, quant'altro. Se quattro persone arrivano a WorldVentures grazie alla nostra segnalazione, la nostra fee mensile, il nostro mantenimento per far parte di questo club ci viene cancellato, ovvero WorldVentures lo pagherà per noi. Tantissimi altri bonus fanno parte del piano compensi. Giusto per farvi un altro esempio, se voi volete fare un po' più di lavoro e da quattro portare sei amici, quindi due in più rispetto a quattro, possiamo già prenderci tutti i soldi che abbiamo speso per l'iscrizione iniziale. Vi faccio l'esempio specifico, abbiamo già incassato più di 400 dollari per il piano compensi, che poi affronteremo in un video a parte. Abbiamo incassato 600 punti, quindi effettivamente 600 punti che potremo scaricare, scontare dalle nostre vacanze. A fine dei 12 mesi ci troveremo altri 600 punti a disposizione da poter utilizzare per le nostre vacanze. Quindi in questo brevissimo video ho cercato di affrontare le 4-5 importanti, secondo me, informazioni riguardo a World Ventures. Contatta la persona che ti ha portato la conoscenza di World Ventures, eventualmente se l'hai trovato online i contatti che trovi sotto il video, persone che lo mettono su YouTube, persone che lo mettono nei blog e lì prenditi seriamente mezz'oretta, un'oretta del tuo tempo per approfondire. Si può viaggiare intelligentemente, si può risparmiare sui viaggi, se vuoi puoi anche trasformarle in un lavoro, divertimento assicurato, accesso a bassissimo prezzo. E per chi viaggia posso dirti che già queste cose sono già assolutamente sufficienti per far scattare qualcosa che dice ok, mezz'oretta, un'oretta della mia vita, del mio pomeriggio, della mia sera per sentire qualcosa in più di questa azienda che si chiama World Ventures, lo voglio dedicare. Altrimenti grazie per aver seguito questo video, grazie per aver dedicato questi 10 minuti per sentirmi parlare con voi. Spero di vedervi presto nel club di viaggi più importante del mondo. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video.